Certo, il portiere sì, ma assolutamente sì, abbiamo un gruppe dell'infortunato, abbiamo lezzerini, ma sicuramente il portiere ha la possibilità di fare delle competizioni, però ci darebbe qualche informazione in più sicuramente per questa situazione una cosa più semplice sarebbe avere ancora un altro portiere perché non si sa degli eventi che potrebbero essere, insomma rispetto alla tranquillità a futuro, quindi questa è la realtà delle cose. Sarebbe opportuno che ci fosse la possibilità di un ulteriore portiere perché la tranquillità di Neto potrebbe essere mirata ancora di più da qui al futuro, quindi sì.